. Questo funziona in macchina di Browser senza un pannello di toccato. Nel momento la macchina è in stato pronto, pressa MENU. Inizia il tasto AROVAP 4 volte. La mantenza è spiegata sul LCD. Il printer è in modo mantenza. Usando il keypad, entra il codice di mantenza. Questo è la lista dei codici. Lo troverete nella descrizione di questo video. Per esempio, se vuoi improntare un test pattern, scrivete 09. Per esistere il modello di mantenza, pressa MENU. Per esistere il modello di mantenza, pressa MENU. Grazie.